La sua sorella ha 93 anni, da settimane ha dei fortissimi dolori alle gambe e alla schiena e lei ovviamente si è rivolto al vostro medico di base. Che è successo? È successo che il medico di base, che è nuovo, gli chiedo, viene a trovarla, viene a visitarla? No, io non vado nelle famiglie. Niente visite a domicilio, siamo a Solania dove vivono Ottavio Todesco e l'anziana sorella malata. Nel frattempo il medico le ha ordinato una serie di medicine. Mi ha dato una cura, mi ha ordinato il cortisone, occhi e tachipirina 1000. Questo medico mi ha scaricato in pratica perché a parte le medicine e il cortisone, non so se per un lungo tempo li faccio bene tra l'altro. La diagnosi l'ho fatta io e lui mi ha dato le medicine in funzione di quanto gli ho detto io. Incredibile il medico di base che ha in cura il nostro telespettatore e la sorella si è fidato di una diagnosi fatta da chi medico non è e ha somministrato una serie di medicinali tra cui abbiamo sentito anche il cortisone. Ottavio Todesco però non si è arreso. Io mi sono incazzato, ho chiamato l'ASL, all'ASL, ufficio di relazione col pubblico. La signora ha il telefono e mi ha detto lei deve presentarmi in una relazione scritta, noi la protocolliamo, poi la passiamo a chi di dovere e poi riceverà una risposta. Ho detto signora ma sta scherzando? E quando arriva la risposta? Fra sei mesi, un anno, fra quanto? E ho detto allora cambi medico, bella conclusione. Avete sentito? Unica soluzione, semplice no? Si cambia un medico così come si cambia un paio di scarpe e quasi fosse scontato che un medico di base può anche rifiutarsi di visitare un'anziana paziente. Todesco ha telefonato quindi al distretto sociosanitario che lo ha dirottato a un altro contatto fino ad approdare al 118. Poi ha deciso di lasciar perdere e raccontare tutto al nostro microfono perché c'è tanta amarezza e si pone una domanda. Cosa bisogna aspettare? Che 93 sono? A fine al 30 dicembre? Allegria!